Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per portarvi un allenamento che ho fatto un anno e mezzo fa circa a Los Angeles insieme al famosissimo coach e atleta Charles Glass. Questo video non è mai stato pubblicato qui sul mio canale YouTube, quindi ho pensato di farlo montare dal mio videomaker e oggi mostrarvi l'allenamento che ho fatto alla Venice Beach in California. Charles Glass viene chiamato il padrino del bodybuilding perché è uno tra i più vecchi coach che ci sono negli Stati Uniti riguardo al bodybuilding e ha 35 anni di esperienza in questo settore, è 35 anni che fa il coach. Lui stesso ha partecipato al Mister Olimpia e negli anni ha allenato tantissimi atleti che ha portato a competere appunto al Mister Olimpia, come Flex Wheeler per esempio e tantissimi altri. I metodi di allenamento di Charles Glass sono tra i più famosi per chi riesca a far guadagnare tantissima massa muscolare a tutti gli atleti che segue, quindi ho pensato di fare una seduta di personal con lui appositamente per migliorare i punti deboli che ho per quanto riguarda le gare. Io come ben sapete gareggio nel Man Physique e nel Man Physique uno dei punti fondamentali per vincere le competizioni è la forma del V-Shape e quindi oggi vado a fare con lui un allenamento di dorso. Quindi ragazzi guardate tutto il video, sarà un video un po' silenzioso perché mi sono molto concentrato sulla lezione, quindi cercate di vedere bene i movimenti, di percepire diciamo quello che è stato l'allenamento, le tecniche perché Charles Glass ha dei metodi di allenamento particolari più che altro per quanto riguarda le angolazioni, lui ti fa lavorare su un determinato macchinario, su un determinato attrezzo con delle angolazioni per quanto riguarda il movimento che solitamente in palestra non facciamo, così da poter attivare quei muscoletti che poi sul palco fanno la differenza, averli sviluppati oppure no. Quindi oggi vedrete tutto ciò in questo video. Mi raccomando ragazzi, prima di iniziare però ricordatevi che se non siete ancora iscritti al canale di iscrivervi, di attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche all'uscita dei prossimi video, lasciate un bel like e se volete anche un commento. Grazie 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 Ke ok and then go good two more one good 5 6 7 8 8 12 14 19 Hit that, hit that. Gigi hit that. Sì. Two. Over there. Good. Check. There you go. Two more like that, huh? It's taking about 1kg. I'm scared. Good. Please. Wait. And the stretch. Yes. Now to your back. There you go. Just the bottom. There you go. Come on. Easy. Got it. No. There you go. No no no. I'd like to move around. Good. 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 un altro bene perfetto ok molto bene tu per il freddo lentamente motion e explosivo lentamente spettare 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 ok non lascia ok 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 roll it back ok 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 Sì, sì, sì. lo vedo in vostro video lo vedo questo è chiamato questo è chiamato for stretch ok se chiamato ok 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 bene no stiamo no ok no sì grazie 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 allora ragazzi questo super allenamento è terminato io intanto mi sono fatto anche il pasto post workout prima di fare la chiusura del video qui abbiamo un super coach con la quale andrò domani ad allenarmi super coach gambe secche gambe grosse gambe secche ciao ciao domani ragazzi andrò ad allenarmi con lui lui è il coach di The Rock quindi ragazzi scoprirete tutto nel prossimo video detto ciò oggi che cosa ho fatto mi sono allenato con charglass e devo dire allenamento strepitoso mi ha insegnato ad attivare dei muscoli della schiena che non pensavo neanche di avere ho imparato il posizionamento in alcuni esercizi che per me sono super fondamentali per l'attivazione del romboide del gran dorsale quindi ho sentito lavorare la schiena come non avevo mai sentito prima d'ora quindi devo dire per fare questa seduta di personal speso 250 dollari lo consiglio a tutti se venite negli Stati Uniti in California e amate il bodybuilding fate una seduta di personal con lui perché ne vale veramente la pena ti insegnerà ad attivare dei muscoli che non pensate neanche di avere io ragazzi sarò qui per qualche altro giorno qui in California e cercherò di portare più contenuti possibili per voi che ci seguite tutti i giorni quindi vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video ciao